Esattamente il 27 dicembre 2020 si è svolto il cosiddetto V-Day, ovvero il primo giorno di somministrazioni anti-Covid che dava inizio a una campagna vaccinale destinata a mostrare una luce in fondo al tunnel della pandemia di coronavirus e che in 365 giorni in Abruzzo ha portato alla somministrazione totale di circa 2,5 milioni di dosi anti-Covid. Io mi ricordo che in quella data a Terramo si svolse quella manifestazione alla quale presero parte i sanitari di tutte e quattro le ALS, fu la prima giornata, da lì poi gli hub partirono fondamentalmente all'interno degli ospedali per poi mano a mano evolversi in tutta una serie di strutture messe a disposizione ora dall'università, ora anche da privati e in Abruzzo, insomma, si formarono tanti hub. I risultati furono da subito risultati evidenti, l'Abruzzo è stata per diverso tempo fra le prime regioni in Italia, quindi a tirare un po' se vogliamo la carretta della vaccinazione. Poi le iniziative sono state tante, quelle dei sindaci con i comuni, la disponibilità, la collaborazione per arrivare anche qui a fare una campagna vaccinale puntuale per poi passare ai camper, insomma, quindi è stata una campagna che poi ha visto numeri importanti, insomma, siamo soddisfatti. Adesso si continua con le terze dosi, insomma, è passato un anno, un anno duro, difficile, un grazie a tutti quelli che hanno dato una mano per quel raggiungimento di questi obiettivi. Un grande lavoro di squadra condotto dall'assessore Verì con grande maestria, insomma, è stata sempre vicina insieme anche al presidente Marsili Aleas. Da oggi è stata avviata anche la campagna di somministrazione della terza dose per oltre 23.000 adolescenti di 16-17 anni, ma anche per i ragazzi tra i 12 e i 15 che rientrano nella categoria dei fragili. Oggi si apre la categoria 15-17 che si possono prenotare presso poste, mentre la categoria 12-14 è necessario che venga dimostrata una fragilità per poterti vaccinare, per cui devono recarsi spontaneamente al lab.